Assessore Barberini, qual è il ruolo delle farmacie sul territorio? È un ruolo significativo, un ruolo importante intanto per il loro numero. Oltre 260 presidi in tutto il territorio regionale coprono anche le realtà marginali più lontane, anche nelle aree montane in qualche modo difficili da raggiungere e sono veramente forse uno dei pochi presidi vicino ai luoghi di residenza dei cittadini. Sono non più quello che erano in passato luoghi di vendita, esclusivamente di vendita di prodotti farmaceutici, ma diventano presidi di salute vero e proprio, in particolare puntando sulla prevenzione. Le iniziative che stiamo mettendo in campo grazie al rapporto con le associazioni, tra cui Federpharma con cui abbiamo presentato il progetto oggi, vertono e puntano essenzialmente su questo. Prevenzione per cercare di rispondere in maniera adeguata ai bisogni di salute dei cittadini, anche per comunicare, far comprendere ai cittadini quanto l'attività di prevenzione sia utile e necessaria per dare speranza e per dare qualità alla vita. Per fare questo, avere presidi così importanti, competenze così forti, quali quelle che possono essere messe in campo dai farmacisti, è sicuramente un bello strumento. Nel piano sanitario regionale che stiamo redigendo, c'è un aspetto molto importante nel riconoscimento del ruolo delle farmacie di servizi in questa nuova concezione, in questa nuova dimensione e in particolare saranno coinvolti anche negli aspetti di prevenzione su tre filoni, in particolare quello dell'alcolismo, del tabagismo e dell'obesità. Accanto a questo ci sono ovviamente tutte le attività di prevenzione che possono essere realizzate invece attraverso le farmacie e anche negli interventi della cronicità. Pensiamo insomma a scompenso cardio, un'altra iniziativa che stiamo mettendo in campo e che partirà nel corso dell'anno, nel 2019, per appunto cercare di rispondere in maniera puntuale anche a questo aspetto particolarmente rilevante vista anche l'età media della nostra popolazione.